Questo tutorial mostra come trovare rapidamente video registrati di una persona in base a una descrizione. Spesso disponiamo di pochi dati, come il colore di una maglia o un arco di tempo stimato. Questo crea delle difficoltà. X-Protect Rapid Review elimina queste difficoltà. In pochi clic potremo trovare ora e luogo esatti in cui la persona è stata vista per l'ultima volta. Vediamo come. Supponiamo di aver già scelto le telecamere e l'intervallo di ricerca. Ora applichiamo i criteri specifici per affinarla e trovare l'oggetto ricercato. In questo esercizio cerchiamo un bambino. Indossa un top rosso ed è alto meno di 1,8 metri. Come vediamo, il sistema fornisce all'istante i risultati, restringendoli da oltre 3.000 a soli 14. La ricerca multicamera avanzata presenta i risultati dalle telecamere preselezionate al centro per poterli esaminarli uno per uno. Per una ricerca ancora più veloce potremo sfruttare l'esclusiva tecnologia Video Synopsis. A sinistra vediamo i risultati per ogni telecamera. Premendo Play rivedremo simultaneamente tutti gli oggetti corrispondenti apparsi nel video in momenti diversi. Così potremo esaminare ore di video in pochi minuti o perfino secondi. Chiunque abbia provato a cercare tra ore e ore di registrazioni sa che è un lavoro estenuante. X-Protect Rapid Review è la soluzione ideale per rivedere e analizzare rapidamente i video e trovare subito ciò che cerchiamo. Grazie!